Forze politiche, e vi prego di ascoltarmi, è che proprio perché l'Università italiana ha bisogno di essere internazionalizzata, che la Commissione sia fatta almeno da 50% di professori stranieri o che lavorino all'estero. Questa è una garanzia che le persone che verranno reclutate come persone di merito e di altissimo livello siano innanzitutto riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e, secondo, fuori dai meccanismi che permeano purtroppo l'Università italiana. Quindi chiedo per piacere al Governo di riconsiderare il proprio parere e di fare sì che queste Commissioni possano realmente scegliere le persone e le professionalità di più alto livello che ci sono. oggi sul mercato. Grazie. La ringrazio, deputata. Deputata Gelmini, prego. Grazie, Presidente, per dire che il voto di Forza Italia su questo emendamento sarà ancora una volta un voto favorevole perché condividiamo le ragioni espresse nel suo intervento dalla collega Capua. ci rendiamo conto che il 50% dei componenti delle Commissioni sia un obiettivo ambizioso ma pur avendo, e ci tengo a precisarlo, la massima fiducia nelle capacità dei docenti e dei ricercatori italiani noi condividiamo la necessità di una grande apertura dell'Università ai meccanismi di selezione internazionali e al confronto con esperienze, con Paesi, con tradizioni nell'ambito della ricerca anche di natura diversa. Da questo tipo di mix tra membri italiani e componenti, professori, ricercatori di altri Paesi non può che nascere un beneficio per l'Università italiana e quindi noi voteremo favorevolmente a questo emendamento. Grazie Presidente. Anche io mi vorrei unire all'appello che la collega Capua ha fatto al Governo affinché riconsideri il proprio parere su questo emendamento perché penso che le ragioni che ha adotto la collega Capua siano ragioni di tutta evidenza e credo che il Governo in realtà già abbia dimostrato la sua sensibilità nei confronti dell'argomento in quanto ha precisato che le Commissioni debbano avere al loro interno anche esperti di estrazione non nazionale. Però la richiesta della collega Capua è quella che ci sia un'indicazione precisa su una presenza di membri delle Commissioni che non siano nazionali ma che siano internazionali che sia ben espressa anche dal punto di vista percentuale. Noi sappiamo perfettamente che la ricerca scientifica è qualcosa che sta ben oltre i confini nazionali e sovranazionale. Sappiamo quanto il mondo della ricerca scientifica italiana abbia bisogno di una osmosi con mondi che stanno fuori dai confini nazionali e avere bene in testa che questo emendamento stabilisce con forza che la ricerca italiana debba essere quanto più possibile internazionalizzata e che non rimanga chiusa entro i confini provinciali della nostra nazione è un interesse strategico del nostro Paese perché l'investimento in ricerca e in innovazione è uno degli investimenti più...